L'enticchio racconta cosa successe lo scorso anno a Lido, quando si ritrovò sul tappeto rosso insieme alla ragazza con cui aveva partecipato a Temptation Island. Questo pomeriggio Francesco Chioffalo ha aperto sul suo profilo Instagram ufficiale il classico box domande con il quale ha permesso ai suoi follower di togliersi qualche curiosità in più sul suo personaggio e sulla sua vita in generale. Tra le numerose domande arrivate al personal trainer ce ne sono state almeno un paio riferite alla partecipazione di Chioffalo al Festival di Venezia 2021, dove aveva fatto capolino con la sua attuale fidanzata Drusilla Gucci lo scorso anno. Domande dopo tutto, sul pezzo, visto e considerato che proprio pochissimi giorni fa l'edizione 2022 del festival si è conclusa con la proclamazione del film All The Beauty and It e Bloodshed. Sul Festival di Venezia c'è grande curiosità in generale, sia per quanto riguarda i film sia ovviamente per quanto riguarda gli outfit e tutti gli eventuali gossip collaterali. E quale miglior pettegolezzo se non due ex fidanzati sullo stesso tappeto rosso. I più attenti, lo scorso anno, si sono resi conto di un dettaglio in particolare. Francesco Chioffalo e Drusilla Gucci hanno infatti sfilato sul Red Carpe lo stesso giorno di Selvaggia Roma, la sua storica ex con cui partecipò a Temptation Island. Ovviamente, sono in tanti a chiedersi se i due si fossero incrociati e cosa si fossero detti. La risposta a questa domanda ce l'ha fornita Chioffalo stesso, rispondendo in questi termini, no, non ci siamo salutati. Io ho fatto finta di non vederla proprio. Tra noi non scorre affatto buon sangue. Chioffalo dunque, forse anche per evitare di rovinarsi il momento, ha preferito tenersi distante il più possibile dall'ex e di non scambiare con lei nemmeno due parole. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.